Maggioni Sebastiano, titolare della ditta Cioccolandia, in fiera abbiamo portato tutto quello che un goloso può cercare a livello di cioccolato, a partire dai tartufi, frutta ricoperta con cioccolato fondente al 60%, oppure una fontana di cioccolato fuso, a cui ogni goloso è tentato. E poi dei cremini, ferri vecchi di cioccolato, un sacco di cose. Abbiamo avuto dei buoni riscontri, ormai la gente ci conosce perché è tanti anni che lavoriamo sul territorio di Brescia e non solo, quindi siamo molto contenti. Sarà pronto anche un sito dove saranno fotografati tutti i nostri prodotti e poi spiegati con descrizioni varie.